Benvenuti nel mio canale. Oggi vi mostrerò come preparare una deliziosa e autentica pasta alla carbonara. Questa ricetta è semplice ma incredibilmente saporita, e vi guiderò passo dopo passo attraverso il processo, in modo che possiate replicarla facilmente a casa vostra. Senza ulteriori indugi, iniziamo con la nostra avventura culinaria. Ricordatevi di mettere mi piace, condividere il video con gli amici e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su altre fantastiche ricette. Ora, passiamo ai fornelli e iniziamo a cucinare la migliore pasta alla carbonara che abbiate mai assaggiato. Assicuratevi di seguire attentamente le istruzioni per ottenere il risultato perfetto. Quindi, prendete i vostri ingredienti e gli utensili da cucina, mettetevi comodi e prepariamoci a creare un piatto di pasta eccezionale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!